Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. So che alcuni si chiederanno quali sia la mia opinione circa Federico Bernardeschi, ma non per puntare il dito contro Federico Bernardeschi, ma perché ieri tutti abbiamo capito un po' che in questo ingranaggio, che è la Juventus, questa somma di ingranaggi che è la Juventus, l'ingranaggio che ha funzionato di meno è sicuramente Federico Bernardeschi. Ripeto, non è un attacco verso Federico. Anzi, ho speso sempre, non dico buone parole, perché non è che è difficile anche trovare buone parole spesso per come ha giocato nell'ultimo anno e mezzo, ma sicuramente di supporto, di sostegno. Però abbiamo visto ieri che c'era, in un meccanismo che ha giocato bene, che ha cercato sempre di portare il risultato, quell'ingranaggio non ha funzionato e purtroppo è lo stesso ingranaggio che non ha funzionato la volta prima, la volta prima ancora e così via. Spezziamo una lancia a favore di Bernardeschi. Ciò che è accaduto ieri, in una partita che Bernardeschi ha giocato male, in cui viene trovato colpevole, in qualche modo, di quello che è stato il gol subito dalla Juventus, dall'LS Verona, quel passaggio, per quanto fatto malissimo, è sicuramente la scelta più rischiosa, è anche una complicità, cioè una concausa di cose, di colpevolezza, di responsabilità, con appunto il buon Artur, Artur, che si sbraccia, come vedete dalla depositiva, che gira in questo periodo, si sbraccia per ricevere palla, ma non fa nessun movimento atto a prendere la palla senza perderla. Questo deve mettere sullo stesso piano, quasi, o comunque togliere un po' di responsabilità di colpe a Bernardeschi. Quindi spezziamo questa lancia a favore, perché non è una cosa che ha particolarmente fare crociate, puntare il dito e dare colpe anche a chi, magari in quel momento, colpe del tutto non ce ne ha. Bernardeschi era avuto delle colpe, ha giocato complessivamente male, si sono viste delle differenze tra i 60 minuti con Bernardeschi e i 30 con Kulusevski, nettamente, però chiaramente diciamo le cose come stanno. Circa l'episodio di ieri, Bernardeschi ha buona parte la colpa, ma non tutta, perché Artur sicuramente, nel momento in cui chiede palla, devi essere anche tu bravo a capire come andarla a prendere quella palla, perché il pallone, insomma, con l'attrito, prima o poi si ferma, o viene intercettato. Bernardeschi ha un problema, e qual è il problema di Bernardeschi? Forse mi ripeto rispetto ad altri video, però si tengo a dirlo. Si tengo a dirlo perché il problema di Bernardeschi non è il fatto che sia scarso. Sicuramente Bernardeschi è un giocatore che non è un potenziale titolare da Juventus, un giocatore che fin dall'inizio si sapeva se sarebbe stato un buon giocatore per la Juventus, una buona alternativa e non di più della Juventus. Quello di Bernardeschi però è un problema prettamente mentale. Lui non c'è più, dopo che ha avuto, secondo me, la parte dell'ambiente, non l'ambiente inteso come la squadra, gli allenatori che l'hanno sempre sostenuto, ma l'ambiente inteso come i tifosi, il supporto che, non dico verità, ma che avrebbe dovuto avere per avere perlomeno un po' di sostegno, un po' di motivazione a far bene. Penso che sia un giocatore che mentalmente non è fortissimo, e subisce un po' anche lui questo clima, che non è sicuramente del liaco, e è entrato in un circolo vizioso, in un cane che si morde la coda, che il faccio male e mi consente di fare ancora peggio e non di certo meglio. Purtroppo Bernardeschi sta soffrendo questa cosa qua. A me dispiace molto perché, ripeto, Bernardeschi è un giocatore che ha fatto vedere delle ottime cose i primi due anni. La cosa che non mi piace mai della valutazione generale del tifoso medio è che vede un giocatore quel momento e quel momento lo porta a tutto il contesto generale e a tutta la storia di Juventus. Il fatto che un giocatore faccia male un anno e mezzo non vuol dire che abbia fatto male tutti gli altri due anni. Questo vale per un Aleksandr, per tutti i giocatori che hanno avuto degli alti e bassi molto evidenti, perché Aleksandr per esempio, per fare un paragone, ha fatto benissimo i primi due anni e poi ha fatto male gli altri due, tre, quelli che sono. Quindi anche lui ha avuto un'involuzione particolare. Bernardeschi l'ha avuta ancora più vistosa, perché poi Aleksandr si è ripreso un po' lo scorso anno. Bernardeschi non dà cenno di riprendersi. Penso che di fronte a questo cenno, prova, 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 tenta di tenta, ad un certo punto bisogna anche arrendersi. È l'impedenza che Bernardeschi non è che non sia un giocatore da Juve. Nel senso che da Juventus vuol dire poter perlomeno essere nei primi 25 della Rosa. Ma è un giocatore che ha perso le motivazioni, che ha perso la fiducia non tanto di chi lo allena, perché l'ha sempre utilizzato, ma che per un motivo all'altro ha perso qualcosina. Non c'è più quella cosa che anche nei nostri confronti ci tiene legati. E quindi quando capita queste cose qua, secondo me non bisogna mai rimanere ancorati nella squadra, ma cercare una via alternativa. E spero per Bernardeschi innanzitutto, perché non è tanto per la Juventus. Non stiamo perdendo punti per Bernardeschi. Questo togliamoci dalla testa. Però penso che per lui sia giusto che trovi una dimensione più corretta. per lui, che sia quella della Fiorentina per diventare un titolare inamovibile, che sia quella della squadra un po' sotto di noi come livello, che però possa concedergli lo spazio che vuole e con la pressione giusta che riesce a sostenere. Quindi credo che su Bernardeschi si debba fare anche per un discorso di rientro economico rispetto all'investimento. Ora si può fare dopo quattro anni, perché il 2021 sarà quattro anni compiuti alla Juventus. Penso che si possa fare questo pensiero in uscita. Bernardeschi è stato utilizzato ieri come esterno a sinistra, come terzino, ma uno può anche dirla un po', vederla come vuole. Però penso che Bernardeschi si doveva prima fare un ragionamento diverso sul fatto su chi tenere. E penso che avrebbe dato via Pellegrini, un giocatore che sicuramente non poteva far peggio di questo. Bernardeschi sia stato l'unico errore del mercato, come ne parlai appunto nel video famoso sull'evalutazione del calcio mercato. L'unica pecca secondo me è questa, perché si vede che è una zona che manca sia di qualità che di quantità, secondo me, perché Alessandro la quantità non la darà fino a novembre, si dice. Frabotta è un giovane che resta tale, non è neanche troppo forte. Per Bernardeschi come alternativa adattata non è, secondo me, convincente. Luca Pellegrini può essere la soluzione a questa cosa qua, però ormai è così. Quindi fino a gennaio perlomeno la situazione sarà questa. Poi vedremo se ci saranno dei margini di miglioramento, di scambio e così via. Mi dispiace veramente fare questi video, non tanto perché... Mi dispiace perché vorrei che tutti i giocatori potessero dare il meglio che sanno dare e far sempre bene, perché il bene del giocatore singolo, poi il bene della squadra. Questa cosa qua deve esserci chiara anche nel momento in cui si va sempre a sostenere Bernardeschi. Capisco che Bernardeschi ormai sia un po' fastidioso vederlo perché sbaglia veramente cose molto banali con tutte le attenuanti che, ripeto, ho dato per il discorso del gol di ieri dell'Ellas. Però un po' diciamo che è giusto anche, insomma, come dignità anche, cercare di non mettersi più in condizione di fare così male. Io auguro veramente a Federico Bernardeschi che possa ritrovarsi, però sono sinceramente poco fiducioso perché si sperava subito una ripresa a compirlo, però forse il giocatore abbia in altri problemi al di là di chi lo schiera e di come lo schiera. Mi pare abbastanza palese. Quindi auguro a Bernardeschi il meglio con la Juventus, fin tanto che sarà con la Juventus e il meglio con chiunque altro nel momento in cui andrà via. Vedremo nel futuro. Aspetto che sono i vostri commenti, sempre con Garbo, perché il Garbo è importantissimo, perché ho visto veramente anche dei commenti al di là di discorsi tecnici, quelli di cui sto parlando io, su offese personali, insulti, il solito schifo che purtroppo io devo condannare, però è veramente uno schifo. Rimaniamo su un contesto di Bernardeschi che non è più adatto a questo Juventus, tecnicamente parlando. Tutto il resto lasciatelo fuori perché poi si passa dalla parte del torto senza passare per il via. Forza, come sempre, alla prossima. Ciao. Grazie.